La mia voce, l'arrangiamento di Paolo Zambelli, per voi Matteo. Grazie maestro. Prego. Una voce ha iniziato a parlarvi di me quando ha visto la luce. Un singhiozzo, un dirotto di piante iniziò l'avventura. Tra le lacrime e mazzi di fiori di mamma e papà si sentiva una voce. La mia voce è il vestito più nuovo che avevo nei giorni di festa. Nella chiesa entravo bambino ed uscivo più grande. Cantapiano diceva Don Mario, ma quella ragazza mi doveva sentire. E' un leggero pazzo di lei. Passano così gli anni di un'età piena di emozioni. Mentre lei, già mia moglie ormai, mi perdeva un po' tra le mie canzoni. E' così, vivo questa vita, fino a che non sarà finita. Se canterò finché forte avrò la voce, canterò. Gli applausi vanno a Pietro Ganassi a fare i ciccarini, gli autori e all'orchestra. Gli applausi vanno a Pietro Ganassi a fare i ciccarini, gli autori e all'orchestra. Gli applausi vanno a Pietro Ganassi a fare i ciccarini, gli autori e all'orchestra. Grazie!